A febbraio del 2015 Nils Ogel entrava così in tribunale con il volto coperto da una cartellina consapevole probabilmente di essere il serial killer più crudele della storia della Germania post bellica. In quel processo venne condannato all'ergastolo perché considerato responsabile della morte di due pazienti in seguito all'iniezione in vena di un farmaco capace di provocare l'arresto cardiaco. Ma la polizia che non ha mai smesso di indagare oggi ipotizza possa essere l'autore del maggior numero di omicidi compiuti da una sola persona in Germania dalla fine della seconda guerra mondiale. E' accusato infatti di aver ucciso 84 persone tra il 2000 e il 2005 in due diversi ospedali distanti 40 chilometri l'uno dall'altro nel nord della Germania. La tattica utilizzata sarebbe stata sempre la stessa, una iniezione letale dopo la quale l'infermiere killer interveniva per effettuare la rianimazione. Se il paziente veniva salvato lui si vantava con i colleghi altrimenti la povera vittima della messa in scena moriva davvero. A far destare i primi sospetti la denuncia di una collega nel 2005 e dopo 10 anni di interrogatori la confessione in tribunale. L'infermiere ammette di aver fatto almeno 90 iniezioni, 30 delle quali letali per i pazienti. Le indagini proseguono. 134 riesumazioni in 67 cimiteri diversi danno la quasi certezza che l'uomo abbia ucciso almeno 84 persone. Ma probabilmente il numero delle vittime è anche più alto. Molti pazienti infatti vennero cremati e su di loro non è stato possibile fare alcun accertamento.